Cosa c'è ancora? Ci sono delle barriere da abbassare ancora tra i 6 e i 6 Secondo me qualcuna non ha avuto Aynet, tu che conduci un programma che si occupa spesso di auto dove si vedono spesso auto sportive, scene spericolate Che tipo di auto preferisci? La Smart, c'è la Smart Mi piace l'auto pratica, bella ma pratica Un'auto deve essere funzionale Guardo più chiaro la funzionalità piuttosto che la bellezza La Smart In the typical lifestyle of a rockstar Cars are very very important Which one is your favorite car? Bentley 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 Luxury cars Bentley, yeah, luxury Of course Sports cars, I like sports cars But I don't so much go for two seaters I like a small four seater Oh, great Thanks Thank you Grazie Grazie, grazie Nett, sei stupenda Grazie 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 Grazie.